Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Oh no ti? Che tre po? Al amo io! So a come noi. Banzontoi venire! Ah, come ho? Diamo! Oh non si ho! Ah, r finisimo! Niente! ... ... ... .. Sì 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 O L'UCCUP E Sì Sì Ahi nooo c'è Ho i bici adesso maresse Ma sentire poi cosa si il vostro Ahi tuouni ne pensi in�'a Ahi il baracchang in�'a Chalcang in�'a Chalcang in�'a Una panna? Chalcang in�'a Putz poco Ahi però vai di jackassi non ci sono ancora inizio ci sono un po' di nuovo ci sono un po' di nuovo ci sono un po' di nuovo OOOOOHHHHHHHHHHHHH Oh, oh Sì, non c'è nessuno che non c'è nessuno che non c'è nessuno. Sì, non c'è nessuno che прекрас rentre le croise. and you but you have to so you want to that you have to you just set a perimeter for yourself you don't like today I want to do something in so whatever happens you have to do something in you just say oh you know what I can't do this but it and you know do it like you can't do that there's no skip like that anyway six two three flip two three four three four pick this up uh we'll get four more than what we get there um yeah I think music is really peaceful shut up bitch like a moron it's annoying so now I've like nobody's about my d i'll go yeah he's not uh just a guy that's an enough uh oh my god oh what do you do you wear you go to wear a oh oh Sì 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 grazie 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 Il giro di clicchare! ... 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 qui vedo qui vedo c'è il c'è 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 ma che intenzione, ma non si è piaciuto ma non si è piaciuto ... 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 Cosa cosa faccio? A presto! Non sono una cosa? Il giorno è molto divertente è stato in giunto Il giorno è un giorno Cosa? ... ... ... Ah! 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 Ah. Ah!! Ah.. Ah�! Ah.. Ah! 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 Oh.. Ah! Ah! Ah. 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 Ah Ah. Ah…. Ah. Ah.. Ah. Ah.. 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 Ah Parf che brains out.. Ah! Ah.. Ah Ah Well.. A G Au Che لاي. Ah.. Ah Ah ah.. Ah Ah.. Ah It's while G A Doctor Ah.. Ah Ah.. Ah però Ah 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 .. Ah ah..! Ah ah.. Ah ah Ahpera Si. Ah Ah.. Ah ah thả children c''SS'II Bian Ah 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 Ahah ah啊 ah 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 ah! Cjè... Sì, è vero. Sì, allora andiamo a fare. Oh, mi piace! Sì, è vero. Oh, mi piace! Oh, mi piace! Oh, è vero. Oh, mia ferma! Oh, è vero. O store vivono d attached con you haha Sì, è vero. There's a sign sign you can share in this house, In this case they're giving to you. I love your money! I love today! Because I don't like doing it forever! O? No? bersama! DoroPi lo coni? Ah.. Ah.. Ah non perlossi Ahahahah Ah. Ahah! Ahahah! Ahahahah Ahahahah l'allenfinalsio Adico non vanno i nonНcomso? Oh... 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 Oh...